Cari amici dei Senza Giacca, la pancia del tifoso dinese, per il commento ufficiale di Lecce Udinese 0-2. Allora, che dire, grandissima prova dei friulani che dovevano assolutamente vincere, ci sono riusciti e quindi tutti noi, il popolo bianconero, siamo contenti del risultato, contenti della prestazione, grande grinta, finalmente sul finire di campionato abbiamo dimostrato quello che effettivamente c'era mancato nei mesi scorsi. Riavvolgo il nastro e riparto. Ragazzi, la partita più ridicola degli ultimi 25 anni della storia del calcio. Praticamente, primitivo di Manduria contro Tokai 0-2. Fortunatamente i tre punti ce li siamo presi e li avremmo presi, potevamo dichiarare questa vittoria anche ad agosto 2023, che comunque sarebbe stato, non avremmo sbagliato sicuramente i pronosti. Comunque, per il resto tutto bene, diciamo che è stata una bella sgambata. Speriamo che il risultato, e solo quello, dia un'iniezione di fiducia per la prossima partita con domenica alle 15 con l'Empoli in casa, che sarà quella definitiva. Diciamo che se riuscissimo a fare tre punti con l'Empoli in casa, andremo a Frosinone già salvi e quindi sarebbe tutta un'altra cosa. Comunque, saluto l'amico Checco di Lecce e spero di andare a trovarlo prima o poi, magari il prossimo anno, una trasfertina a Lecce me la farei volentieri. Diamo la parola ai nostri super tifosi, che anche loro hanno qualcosa da dire sull'incontro di ieri sera. Io vi saluto, ciao, ciao, ciao. Eccoci qua, Severino, con gli amici stasera. Allora, con i grandi amici, Mario Bullo e il Piastralista. Eccolo qua! Siamo tre! Io e il Piastralista siamo tre. Juventus, Lazio e Lecce. Questa sera è stata una farsa, comunque va bene, dai, ok. E via, no? Sì, sì, sì. Tre punti sacco. Non siamo grossaldi, però dai. Però? Ho 20 statenti fulempoli però, eh. Sì, no, no, no. Però Severino, ho visto i risultati di ieri, non male, dai.